Scusa Nick, eravamo noi, hai ragione. Bello! Ehi, lascia l'angolo, sto bello. Ma chi è? No, pure te hai 26, no! Devi fare il 27esimo, Tommy! Questo è decisivo, frate, sennò sei 26 come Chris e Moreno. La scelta di tiro. Alla fine, che grande, ho deciso di fare così. Conclude con l'Euro goal, Tommy, e si libera. Ti ho lasciato un po' di patos. So che sei forte di giro nel mondo, fammi due giro nel mondo per caricarmi, e poi la prova a mettere nel controbalzo. E la madonna! Vediamoci! Cosa di questa! Mi aveva chiesto il controbalzo, è arrivato. Te l'avevo detto, aspettavo il controbalzo e il tiro al volo. L'ha fatto. È arrivato. Devastante. Questo è totale, eh. Questo, ragazzi, possono guardare. Cioè, hai fatto gol, Gunn, su tutti gli assi, strane che il mio. È vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Questa è per te, è Davù! Ma che la metto! Adesso voglio 10 milioni! Perza Davù! Ragazzi, cos'vi devo dire? Questo è l'ottavo. Sì, questo è l'ottavo. Nooooo! Questo è bello! Questo è bello! Oh mio Dio! Questo è bello, eh, Fred. Ti posso perdere. Botta e risposta! Questo è bello! Botta e risposta! Oh mio Dio! Nooooo! Nooooo! Ha tolto la ragnatela, eh! Ovviamente! Col doppio giro del mondo, eh, regà! Eccolo! Eccolo! Mamma, guarda che sto facendo! Mamma, guarda che sto facendo! Proprio lui il boss, ragazzi! Sesto gol! Sti gol qua, ragazzi, valgono almeno per cinque! Sono gol devastanti! Ma dai! Fanne un altro per il... 23, un gol per sbloccare il tatuaggio! Vedremo se lo farò io! Chiudi la! Oh! 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 Oddio! È il primo! È il primo! È il primo! È il primo che lo fa! Andiamo! Il cucchiaio! Andiamo! Questo è clamoroso! È venuto a giù Rozzano, Fred. È venuto a giù Rozzano! Totalmente dovevo riprendermi! E quindi ho detto, muoio, faccio il cucchiaio! Sei il primo nella storia dei tiri eh! Lo sai che si è appassata proprio all'ultimo! E quindi... E pensavo prendesse la traversa! Comunque c'è entrato lo specchio della porta fino adesso praticamente tutte le volte, quindi ci sta un tiro fuori per provarla! Occhio eh! Non so cosa fa! Oh! 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 Me ne vado! Me ne vado via! No, me ne vado! Eh! Ragazzi che cosa cavolo è successo! Ragazzi! Ma che gol ha fatto! Devastante more! Sigla l'ottavo così! Vogliamo una doppia cifra con questi due palloni eh!